La dinastia Kim inizia esattamente nel 1948, quando Kim Il-sung, il capo stipite, arriva al potere. Da allora tre generazioni si sono succedute, tra misteri, voci non confermate, parate militari, il mondo intero ormai familiarizzato con Kim Jong-un, l'attuale leader, il padre Kim Jong-il e appunto Kim Il-sung. Quest'ultimo è stato il primo presidente della Corea del Nord e il suo percorso è tutt'altro che lineare. Sin da giovanissimo si oppone al dominio giapponese sulla penisola coreana ed è costretto a lasciare il paese, vi ritorna nel 1945 con le forze di occupazione sovietiche e cerca in vano di riunificare la penisola. Al vertice del partito comunista prima e del paese poi, intrattiene stretti legami politici ed economici con l'Unione Sovietica. Gli anni 60 e 70 sono anni di relativa prosperità per la Corea del Nord. Kim sviluppa un forte culto della personalità a scapito delle libertà fondamentali e della democrazia. Già da allora la Corea del Nord e il suo programma nucleare preoccupano gli occidentali. Kim muore nel 1994. Lì succede il figlio maggiore Kim Jong-il, che è soprannominato il caro leader. Il suo regime dittatoriale è considerato ancora più terribile. Sotto Kim Jong-il il paese soffre la carestia dovuta a politiche economiche errate. La politica militare e di difesa del paese viene ulteriormente rafforzata e dopo l'annuncio di qualche anno prima, nel 2003, la Corea del Nord abbandona il trattato sulla non proliferazione nucleare. Kim Jong-il proseguirà sulla scia del padre creando falsi miti e leggende sul suo conto. Come in ogni dittatura che si rispetti, le sue mancate apparizioni pubbliche gettano ombre sinistre sullo stato di salute del dittatore a partire dal 2008. Lui, in realtà, muore alla fine del 2011. Kim Jong-un è designato dal padre come legittimo erede all'inizio degli anni 2000, anche se così non dovrebbe essere. Il suo praticantato di governo dura 15 anni. Come i suoi ascendenti si conferma un dittatore spietato, pronto ad uccidere chi lo ostacola. Ci sarebbe lui dietro l'assassinio dello zio e del fratellastro.